Ciao e benvenuti a un nuovo video. Oggi vi do 7 dritte di come imparare il tedesco in modo facile. Iniziamo subito. Dritta numero 1. Ascoltare musica tedesca. Un metodo molto facile per imparare il tedesco è ascoltare musica tedesca. Ascoltando musica tedesca sviluppi l'orecchio per la lingua tedesca e ottieni un istinto per la lingua. In più impari anche qualche parola. Anche chi non parla nemmeno una parola di tedesco può iniziare subito con questo metodo. Per questo l'ho messo al primo posto. In Germania esiste la veramente bella musica. Specialmente Volksmusik, la musica popolare. La cosa più importante però è che ascolti musica tedesca che piace a te. Passiamo alla dritta numero 2. Guardare video su YouTube. Io non intendo di video, che spiegano per esempio la grammatica tedesca. Ma intento di seguire dei veri YouTube tedeschi. Puoi guardare di tutto. Let's play, vlogs, lost places, canali di fitness, programmi televisivi, cartoni animati. E insomma qualcosa che ti interessa e ti appassiona davvero. Per questo metodo sarebbe buono, ma non è necessario, se si ha già una piccola base di tedesco. Lo stesso, questo metodo l'ho messo al secondo posto, perché è il metodo più efficace che conosco. Io, in questo modo, ho imparato l'inglese. Ideale sarebbe se guardi i video poco prima di andare a dormire. Ma la cosa più importante è che guardi ogni giorno un video, anche se sono solo 5 minuti. Bastano. Perché per questa dritta, come per tutti gli altri consigli, vale il principio della continuità. Significa, studiare 100 giorni di consecutivo per 5 minuti è molto più efficace che studiare per un solo giorno 500 minuti. Vi metto nella descrizione del video il link a 2-3 canali tedeschi che vi posso consigliare per iniziare. Giusto per avere un'idea. Dritta numero 3 Fare un tandem Prima di tutto, cos'è un tandem? In un tandem si incontrano due persone con due madrelingue differenti. Per esempio, un italiano o un'italiana si incontra con un tedesco o una tedesca. Bevono un caffè e parlano di tutto e di più. Così facendo, ognuno impara dall'altro. L'italiano impara il tedesco dal tedesco. E il tedesco impara l'italiano. La cosa buona di questo metodo è che conosci nuova gente e che hai un esperto dell'altra cultura a portata di mano. Grazie a tecniche moderne di oggi è anche possibile fare un tandem online tramite ad esempio Skype, Facebook o WhatsApp. Un partner per un tandem lo trovi ad esempio su Facebook oppure su siti web delle università che hanno anche studenti internazionali. Per chi gli interessa, metto un link di un gruppo Facebook per trovare un tandem partner nella descrizione del video. Dritta numero 4 Guardare film in tedesco Anche un buon metodo per migliorare il proprio tedesco è guardare dei film in tedesco. Ho due suggerimenti importanti da darvi se volete guardare dei film in tedesco. Primo, non fermate spesso il film. Io ho visto gente che ferma spesso il film e guarda nel dizionario cosa significa ogni singola parola che non conosce. Io questo procedimento lo sconsiglio. Piuttosto vi consiglio di cercare di capire cosa viene detto grazie alle immagini del film. La cosa buona del film è proprio questa, che anche se non si capisce tutto, spesso grazie alle immagini del film capiamo lo stesso cosa si vuole intendere. Chi vuole può anche mettere i sottotitoli. Ovviamente, se c'è proprio una parola importante che non avete capito, cercatela nel dizionario, ma di certo non tutte. Anche, vi sconsiglio di creare una lunga lista dei vocaboli per ogni film. Secondo me, è più efficace se con ogni film imparate solo un paio di vocaboli, però questi pochi vocaboli ve li ricordate facilmente, perché nel film avevano un ruolo importante. Come per esempio il titolo del film. Questo, secondo me, è molto meglio che se imparate 100 vocaboli a memoria e dopo due settimane li avete già dimedicati tutti. E il secondo consiglio che vi do, se volete guardare dei film in tedesco, è di guardare dei film tedeschi veri, apposta di sincronizzazioni in tedesco. Perché, guardando film in tedesco, non dovete solo imparare il tedesco, ma dovete anche scoprire parti della cultura tedesca che ha molto da offrire. Così, per esempio, ci sono molti precedenti tra l'est e l'ovest della Germania, che un po' di più di 30 anni fa erano due Germanie. Film che vi posso consigliare da vedere ve le metto nella descrizione del video. Passiamo alla dritta numero 5 Affilarsi a gruppi di studio Anche una buona opportunità per migliorare il proprio tedesco è affilarsi a gruppi di studio. Oggigiorno, il modo più facile per creare o associarsi a un gruppo è tramite i servizi internet, come ad esempio Facebook oppure Whatsapp. Per chi ha interesse, metto un link di un gruppo Facebook di persone che vogliono imparare il tedesco nella descrizione del video. Però, anche nel mondo reale, potete associarvi a gruppi. Per esempio, esistono circoli che si incontrano una volta dal mese, sempre in un altro ristorante italiano. Oppure, nelle università, puoi trovare dei gruppi di studio. Dritta numero 6 Leggere dei libri in tedesco Anche un bel modo per imparare il tedesco è leggere dei libri in tedesco. Esistono dei libri scritti apposta per persone che studiano il tedesco, in un linguaggio molto facile. In più, su ogni pagina di questi libri, spesso trovate come aiuto i vocaboli più importanti già tradotti. Anche nell'internet si trovano molte Kurzgeschichten, cioè racconti brevi, gratuiti da leggere. Vi metto i link dei racconti gratuiti nella descrizione del video. Questo è anche un bel trucchetto per scoprire che livello di tedesco hai. Leggi, per esempio, uno o due racconti brevi del livello B1. Se te la cavi bene con i testi, allora è il tuo livello. Se no, se hai difficoltà a capire, prova a cambiare il livello dei testi. Così facendo, scopri qual è il tuo livello di tedesco. E' l'ultima dritta di questo video, la dritta numero 7. Entrare in gruppi su un certo argomento sulle piattaforme sociali. Anche un buon metodo per imparare il tedesco è associarsi a gruppi tedeschi, cioè gruppi in lingua tedesca sulle piattaforme sociali, come ad esempio Facebook. Associatevi a gruppi tedeschi su un tema che vi interessa, come per esempio un gruppo sui pastori tedeschi, sullo sport, sui computer, sui club di calcio, e insomma, su qualcosa che vi interessa. La cosa buona di questo metodo è che, a parte che approfondite il vostro tedesco, imparate anche molte cose interessanti su un tema che vi interessa. Così diventate anche dei esperti sul campo. Dopo, aspetta a te se vuoi partecipare alle discussioni nel gruppo, o se vuoi solo leggere cosa scrivono gli altri membri del gruppo. Un'ultima cosa, molto importante da dirvi, ce l'ho ancora. La cosa più importante, che vale per tutte le dritte che vi ho dato, è che il divertimento sta al primo posto. Significa, fai solo le cose che ti interessano veramente. Per esempio, noi non ascoltiamo la musica per imparare il tedesco, ma ascoltiamo musica tedesca che ci piace. E ascoltando questa musica, impariamo automaticamente il tedesco. Praticamente in modo passivo. La stessa cosa vale ovviamente anche per tutte le dritte di questo video. Queste erano le mie sette dritte su come imparare il tedesco, in modo facile. Spero che questo video vi sia d'aiuto. Se avete altre dritte, scrivete pure nei commenti. Ciao, alla prossima!